chiedendo anche di disinnescare l'antifurto satellitare. Gli inquirenti lo avevano già individuato dopo la morte dei tre paracadutisti del diciassettesimo reggimento di Montauban, ma non sono arrivati in tempo. Non sono riusciti a fermarlo prima che... Grazie. Ho postato le immagini della strage in rete. Stava per colpire ancora. Voleva uccidere oggi. Grazie.